Buongiorno e ben ritrovati, venite ad abbeverarvi alle fonti anche oggi, martedì 2 marzo, ieri partenza bruciante con Adriano Panatta, oggi un ospite di altrettanto livello, che voglio introdurre ricordando che io ho scelto di venire a vivere e a lavorare a Roma 33 anni fa e una delle cose che ho imparato all'inizio della mia vita romana, che non conoscevo affatto, se non quello che avevo appreso leggendo libri ambientati a Roma, la storia di Roma, una bellissima espressione, ho scoperto arrivando a Roma che a Roma eravamo tutti amici, perché a Roma si diceva così, a Roma siamo tutti amici, se parli di qualcuno, Piroso, ma chi Piroso quello? Ma quello è un amico, tutti amici. Mi è capitato anche di recente di avere una qualche polemicuccia con un personaggio pubblico di cui mi sono occupato in virtù delle cose che nel suo ruolo stava facendo, essendo a capo di un'istituzione pubblica, mi ha chiamato piuttosto indispettito dicendo, pensavo fossi un amico, ma io faccio giornalista, tu sei un personaggio pubblico, poi pensavo fossi un amico, l'amicizia si cementa di alcune consuetudini, ad esempio, non abbiamo mai preso neanche un caffè insieme, dice vabbè ma non conta quello, ma neanche ci sentiamo al telefono, ci parliamo quando capita, ogni 3-4 anni è dura dire, ma io sono venuto ospite in una tua trasmissione televisiva, fu la risposta. Io dico sì, ma se dovessi essere amico di tutte le persone che ho avuto ospite in 10 anni di televisione, no, non finirei più a Natale di fare gli auguri o di riceverli, invece dice Nisba. Lo dico perché ne parlavo ieri con l'ospite in vista della chiacchierata di oggi, l'amicizia in realtà più che sulle abitudini o con le consuetudini si deve basare su una sorta di affinità elettiva, ci sono persone con cui ti trovi, che ti piacciono anche a livello epidermico, anche se poi non hai modo di frequentarli nella vita di tutti i giorni o le senti solo in determinate occasioni, però in quel momento scatta un'alchimia per cui c'è un idem sentire, è quello che a me succede tutte le volte che parlo con Enrico Vanzina. Buongiorno Enrico Vanzina. Buongiorno Antonello, buongiorno Antonello. Sai l'amicizia è qualcosa di veramente formidabile perché si sceglie, l'amore si subisce e l'amicizia si sceglie, per cui è una differenza sostanziale. Grazie, ora me lo segno e lo dico a mia moglie stasera quando torno a casa perché mi sono sposato poco tempo fa alla veneranda età di 60 anni, quindi stasera glielo dirò. Tu sarai d'accordo con me che il matrimonio è quel rapporto in cui uno dei due coniugi ha sempre ragione e l'altro è il marito. Esatto, e ce ne sono tante sul matrimonio. Te le faccio dire tutte, adesso ci arriviamo, anche perché il matrimonio per quanto riguarda l'istituzione, le dinamiche, le vicende del rapporto matrimoniale è stato oggetto di tantissime pellicole della cosiddetta commedia all'italiana, ma ci arriviamo con calma. Devo fare una precisazione, nel cominciare questo spazio come le altre cose che faccio nella vita, mi sono ripromesso di non fare mai marchette, cioè di non subire quelle cortesi sulle citazioni che arrivano dalle case di produzione, dalle case editrici, potresti ospitare il mio autore, ha fatto un nuovo disco, ha fatto un nuovo libro, ha fatto un nuovo film, eccetera, eccetera, eccetera. Lo dico perché avrei invitato Vanzina e lui avrebbe accettato di farsi intervistare da me, anche se pochi giorni fa è uscita una sua nuova produzione letteraria che singolarmente, per essere lui un romano verace, è ambientato a Milano. Io adesso vorrei non spoilerare la trama, come si dice oggi, Vanzina, ma di che cosa stiamo parlando a proposito di Milano e del suo ultimo romanzo? Allora, io non sono venuto da lei o da te. Vabbè, diamoci del tu che mi sembra più comodo. Da te. Allora, non sono venuto da te per parlare del mio libro perché, ripeto, c'è un'amicizia per cui l'amicizia si sceglie al di là dei libri e dei film, dei pezzi giornalistici e delle nostre presenze in pubblico. Questo libro si chiama, si capisce tutto dal titolo, Una giornata di nebbia a Milano, ed è un giallo, ed è un giallo che ho voluto fortemente scrivere dopo aver scritto tre anni fa un altro romanzo giallo a Roma che si chiamava La sera a Roma, nel quale raccontavo la decadenza, il cinema, il giornalismo. Insomma, Roma la conosco molto bene perché io non solo sono il figlio del regista di Un americano a Roma e di Febbre da Cavallo che oltretutto ho scritto, ma sono fieramente romanista, sono fieramente romano, ma Milano sta nel mio cuore e quando ho finito il libro su Roma pensai subito di proseguire facendo un romanzo giallo su Milano, una cosa completamente diversa, perché io devo moltissimo a Milano, Milano è la città del cuore, come Stendhal che sulla sua tomba fece scrivere Henri Bell Milanais, io ho capito nel corso della mia vita che si può essere nati in due posti diversi, io sono nato a Roma, sono romano, ma sicuramente Milano mi è entrata nel cuore e l'ho voluto raccontare, l'ho voluto raccontare con un romanzo spero sorprendente, anche divertente e appassionante perché è un giallo, perché ho fatto una scelta molto precisa, non ho messo la polizia, non ho messo gli investigatori, non ho messo i ris, ma per svelare il mistero di questo omicidio, è l'omicidio di un signore che è il padre del giornalista protagonista del film e lui che è stato ucciso nella nebbia, che è metaforica perché la nebbia a Milano non esiste più, per svelare tutto questo mistero chi ci riesce è la letteratura, per cui ho alzato un po' l'asticella in un romanzo, ripeto, secondo me molto sorprendente ma anche molto divertente. Milano è una città che poi sto parlando troppo, se mi vuoi fare delle domande ne parliamo. No, figurati, io intervengo quando l'ospite vedo che non ha argomenti o che fa fatica a mettere insieme il soggetto, verbo e complemento oggetto, che non è esattamente il tuo caso perché ricordo… Scusami se ti interrompo, io ho avuto un padrino di battesimo che era uno dei migliori amici di mio padre, che era romano e che viveva a Milano, che era Marcello Marchesi, tu lo ricordi bene, il quale usava dire non ho niente da dire ma lo devo dire. Marcello Marchesi, geniale autore di aforismi, noi siamo abituati a citare Oscar Wilde, George Bernard Shaw, ma poi ce l'abbiamo in casa se uno vuole andare a vedere, a leggere, a informarsi, si fa una gran fatica. No, no, ti lasciavo parlare perché era giusto che tanto illustrarsi la trama. Devo dire che tu hai sempre avuto un'attenzione, tu e anche tuo fratello, perché ricordo un film che ieri ti ho sentito evocare in una trasmissione radiofonica di una rete radiofonica decadente, a proposito di un film in cui il protagonista era niente po' di meno che Gian Maria Volontè, ambientato nel mondo dei giornali, tratto ahimè da un romanzo, ahimè scritto, ahimè da Corrado Augas, la sinistra elitaria, la sinistra che dice sempre agli altri come devono essere per innalzarsi eticamente al suo livello, ma non voglio fare politica. Cos'è questa passione o attenzione per il mondo dei giornali, Vanzina, Enrico? Quello era un film che si chiamava Tre Colonne in Cronaca, il protagonista era Castellitto insieme a Volontè. Ma io misteriosamente nel 1990 ho ricevuto una telefonata da Paolo Mieli, io stavo a casa, il quale mi disse sono Paolo Mieli, ti va di venire a collaborare con il Corriere della Sera, io pensavo che era Verdone, mi faceva uno scherzo, lo mandai a quel paese e lui mi richiamò e invece era vero e insomma credo che è l'unico caso in cui qualcuno entra a Corriere della Sera avendo mandato affanculo il direttore, insomma. Entrai al Corriere della Sera così e mi sono innamorato subito di questo lavoro che mi ha insegnato molto, questo lavoro straordinario che io faccio ancora da tantissimi anni, sono 10 anni a Corriere della Sera, da più di 20 sto al messaggero ed è un orgoglio, un vanto, un piacere, mi piace moltissimo. Fare giornalista è una cosa complicata, diceva Mark Twain quando cominciò a fare giornalista, diceva non vorrei diventare come due giornalisti che sanno distinguere il falso dal vero e poi pubblicano il falso. Ecco l'ho sempre avuto a mente questa cosa, è l'occasione per dire le cose come stanno, per raccontare e siccome nella mia vita io faccio lo scrittore, di cinema, di libri, il racconto è centrale nella mia vita, per cui raccontare la verità o quella che tu presumi sia la verità in buona fede e raccontare soprattutto al di là della verità, raccontare le cose, le cose come stanno, quelle che vedi. Io nel cinema ho sempre cercato di pedinare come dice Verdone gli italiani, ecco anche facendo giornalista cerco di pedinare fatti, storie, cose interessanti, per cui quando ci è capitato di fare quel giallo, che era un giallo oltretutto, che andò malissimo al cinema, però era un film discreto secondo me, mi è piaciuto tanto, però comunque a Milano con mio fratello soprattutto, poi anche con Dinorisi, insomma con tanta gente, abbiamo fatto tantissimi film, credo 17, nessuno ha mai fatto tanti film su Milano come noi, sono dei film anche abbastanza fondativi, sono certi immagini in mano, perché se tu pensi non so, in commedia, Iuppies, oppure eccezionale veramente, che è proprio un film sul calcio a Milano, ma un altro thriller molto di grandissimo successo, era un bel film, era sotto il vestito niente, Via Monte Napoleone, un melo meraviglioso su Milano. I maschili, volevo dirle che noi tutti siamo affezionati a ricordati sotto il vestito niente, che poi sotto il vestito niente dipende, sotto il vestito in qualche caso c'era, no? Vabbè, insomma, Carol Alt e René Simonsen, se non ricordo male, esattamente, erano veramente una presenza fortissima di un cinema che non si fa più, di un cinema in cui anche il fascino degli attori contava molto, oggi questo si è perso un po' ed è cambiato tutto, ma insomma non bisogna piangersi addosso, bisogna andare avanti. Adesso non voglio entrare con lei nella disamina delle politiche fatte dai governi a proposito del Covid, della chiusura dei teatri, dei cinema, mi interessa di più il ragionamento che qualche volta abbiamo affrontato anche in passato, perché adesso lasciamo stare il Covid, ma al netto del Covid, mi ricordo che una volta lei mi disse, ma come tu mi hai detto, in Italia si producono tantissime pellicole e però poi ci si lamenta sempre del fatto che la gente non va dal Cina o che fugga dalle pellicole italiane. Ne parlavamo, ripeto, in era pre-Covid, perché adesso è tutto pre-Covid o post-Covid, però è vero che a un certo punto, diciamo così, io che sono uno spettatore medio, a un certo punto ho avuto l'impressione che la commedia italiana, la commedia all'italiana che poi sono due cose diverse, ma storicamente, si sia un po' avvitata su se stessa, io avevo sempre l'impressione a un certo punto che i film fossero più o meno tutti abbastanza uguali, con dei cast tutti abbastanza uguali in cui regista, sceneggiatore e attori si scambiavano come le figurine, ma poi alla fine il prodotto era sempre quello. Era un mio modo sbagliato di vedere le cose oppure c'è un fondo di verità? C'è un fondo di verità assoluta, perché noi abbiamo un cinema molto particolare in Italia, un cinema che è in bilico tra la commedia e il film d'autore. I ragazzi sono stati spinti da tutta una letteratura, una narrazione, come si dice oggi, verso il cinema d'autore, il cinema da festival, un cinema che talvolta è strepitoso, ma talvolta, anzi molto spesso, è poco visto e non incide moltissimo. A un certo punto, siccome i film italiani andavano male, quasi tutti gli autori di film drammatici si sono spostati sulla commedia, per cui la commedia è stata inflazionata, oggi si fanno soltanto commedie, in Italia si fa praticamente soltanto commedie e film da festival. Ora, non è detto che un autore di film drammatici sia in grado… No, scusami Enrico, rido perché hai detto film da festival, o commedie, o film da festival, come dire. Ma no, i film da festival sono molto importanti, solo che i ragazzi che cominciano in cinema dovrebbero avvicinarsi al cinema, il cinema è il racconto, non è il resoconto. Io lo scrivo anche nel mio libro. Il resoconto è… Noi siamo perseguitati dal neorealismo, che è stata la nostra forza e adesso è un po' la nostra maledizione. Vogliamo raccontare sullo schermo la realtà. La realtà è molto interessante, però sfortunatamente questa realtà che raccontano i ragazzi di oggi è sempre ambientata in una periferia tra gente che si droga, emarginazione. Sono dei resoconti, un resoconto di quello che noi vediamo tutti i giorni nella cronaca dei nostri giornali, delle nostre reportage televisivi. Invece il cinema vive del fascino del racconto, bisogna inventare le cose e quando si inventano le cose, soprattutto la commedia l'ha fatto, tu capisci, inventi prima quello che succederà, dopo. La commedia è sempre 5 minuti o mezz'ora, addirittura un anno in anticipo. Questo è molto interessante secondo me, ma vorrei approfondire il discorso. La commedia non è più la commedia di una volta, perché i grandi autori della commedia italiana, i colonnelli storici, erano quasi tutti di sinistra, però avevano un atteggiamento nei riguardi del racconto che facevano, assolutamente cercando di capire le ragioni degli altri, per cui mettevano in scena dei personaggi che loro detestavano, ma non facevano sentire il loro disappunto. Invece oggi si fa una commedia ideologica. La commedia ideologica cos'è? Che tu dal primo in quadratura capisci che c'è un buono, c'è un cattivo, c'è una tesi da svolgere. Le vere commedie dell'italiano non sono mai così. Questa è stata la grande forza di questi autori di sinistra, intelligenti e formidabilmente attaccati a quello che è l'essenza del cinema. Il cinema sono delle immagini con delle parole, non sono delle tesi da esprimere. È interessante perché mi è capitato di parlare di recente con Walter City, scrittore, il quale poi aveva scritto un saggio sulla letteratura di Roberto Saviano, non Roberto Saviano il personaggio pubblico, proprio lo scrittore. Perché diceva City, ormai sembra che se non parli di migranti, se non parli della condizione della donna, se non parli delle periferie, nella letteratura, nelle serie tv, è tutto o Gomorra o Suburra o romanzo criminale, che per carità è un pezzo della realtà, poi c'è tanto altro. Io preferisco i soliti gnoti. O i soliti, ecco il punto. Andando negli anni in cui c'era il papà di Enrico Vanzini a Steno, in cui Enrico e suo fratello Carlo giocavano sulle ginocchia di Alberto Sordi, credo che abbiamo un'immagine, in cui loro respiravano l'area di famiglia, in cui come giustamente ricordava Enrico, c'erano autori, cineasti di sinistra che però sapevano leggere la realtà in maniera spassionata, non salendo in cattedra a fare la morale, ma descrivendo gli italiani per quelli che erano. Io aggiungerei anche, se sei d'accordo, Enrico Ettore Scola. Ma come no? Questo film, questa foto, questa foto è la foto, noi sul set di un americano a Roma di papà. E un americano a Roma è sceneggiato da mio padre insieme a Ettore Scola. E ci arriva la terrazza che descrive quel mondo elitario di sinistra, che guarda il mondo dalla terrazza e che in qualche modo spiega agli altri come si sta il mondo, disprezzando il macellaio che ha il negozio sotto casa, perché il macellaio ovviamente è uno che è già ostaggio o della televisione o del Berlusconi di turno, perché abbiamo passato decenni a parlare di queste cose. E abbiamo parlato per decenni del fatto che Carlo Enrico Vanzina sono identificati come i genitori, i tutori, gli sviluppatori del cine panettone. Vogliamo dire una volta per tutte che voi col cine panettone non c'entrate praticamente quasi nulla, se non aver fatto un film che poi è stato replicato da altri. Vabbè, ma insomma questa è una polemica così. Mi dispiace perché effettivamente quando con Carlo abbiamo iniziato a fare i cosiddetti film di Natale, io non ho mai chiamato cine panettone, che è una parola che mi fa schifo, abbiamo, partendo da un film secondo me abbastanza mitico che si chiama Sapore di Mare, siamo passati sulla neve e abbiamo fatto Vacanze di Natale. Vacanze di Natale è un film che a rivederlo oggi è una fotografia innanzitutto romantica anche, non solo comica, a dare una fotografia di quello che era il paese in quel momento, c'è un'immagine della borghesia, soprattutto quella romana ma anche milanese, dove la borghesia stava perdendo il treno, che è stata la catastrofe di questo paese, si sono buttati sul avere piuttosto che essere. Erano dei film che fotografavano lo stato di salute, di umore, di umorismo e di vizi e di difetti e di grandezze, anche piccole grandezze del nostro paese. Poi piano piano sono diventate un'altra cosa, sono diventate delle farze oltretutto molto remunerative per chi li faceva in giro per il mondo, in cui si facevano delle pochette, ma il film di Natale inteso come l'avamo immaginato noi all'inizio si è perso per strada. Poi da un certo punto non l'abbiamo più fatto, noi abbiamo fatto tantissimi film che hanno avuto dei seguiti fatti da altri e noi non l'abbiamo mai fatti, sembra che l'abbiamo fatti tutti noi con Carlo, però invece sfortunatamente da un punto di vista finanziario non è così. Allora, polemica per polemica, tu hai deciso nel 2020, anno che fa da spartiacque nella storia del genere umano, di ricavare una commedia sul lockdown. Apriti cielo, si è scatenato lo Sturmundrang, lo Shitstorm, come si permette di fare un film, tanto più una commedia su un dramma che coinvolge decine di migliaia di persone, le vittime, i loro familiari, tutta la società, coloro che non hanno più un lavoro a causa della crisi. Devo dire che quando leggevo le polemiche ho avuto un sobbalzo, e Enrico lo sa benissimo, perché mi sembrava un atteggiamento farisaico, ipocrita, perché se c'è un tratto umano del cinema e della commedia cosiddetta l'italiana, o della commedia Tukur, e anche occuparsi dei drammi. Se no, a questo punto noi dovremmo anche decidere che i film in cui Totò era un personaggio di film che erano delle parodie sulla Seconda Guerra Mondiale, in cui aveva a che fare con i nazisti, siccome la Seconda Guerra Mondiale ha causato milioni e milioni di vittime e, aggiungo, l'olocausto, Totò non si doveva permettere di fare un film sulla Seconda Guerra Mondiale. Ma, dico, siamo matti. Quanto ti hanno infastidito, quanto ti hanno dispiaciuto quelle critiche del lockdown all'italiana, Enrico? Ma, guarda, io sono fiero di aver fatto questo film, perché questo film rimarrà come il primo film fatto su quel momento e già rivisto oggi ha un sapore molto particolare. È un film che è esattamente il contrario di quello che era stato detto all'inizio di tutto questo gruppo di haters, ma questi haters hanno una cassa di risonanza fortissima sui giornali, perché basta che 2 mila cretini senza aver visto un film ne parlano e il giorno dopo i grandi giornali lo riportano. Per fortuna i grandi giornali hanno delle grandi persone che sono, come dicono oggi, scese in campo quasi tutte in prima pagina per parare questa idiozia della censura preventiva su una commedia che parla di un dramma. La commedia italiana nasce proprio da questo. La commedia italiana è una declinazione leggera, spiritosa, talvolta satirica, di qualcosa che è sempre drammatico. Sono sempre quasi… le grandi commedie partono da temi drammatici. Poi la storia del cinema non solo è italiano, perché se pensiamo al grande dittatore, se pensiamo a Lubic che fa un film meraviglioso in un campo di concentramento, la commedia si può permettere se è fatta bene, bisogna vedere come si fa. Io credo di averla fatta benino, nel senso che è un film molto rispettoso del problema, è un film anche malinconico, è un film che affronta proprio tutto quello che mi veniva contestato, il dolore, la sofferenza, mi ha fatto molto male, ma mi ha fatto male soprattutto una cosa che all'inizio, poi dopo non è stato così. I miei colleghi tacevano, perché hanno tutti paura dei social, qui adesso siamo diventati schiavi di un gruppo di persone che spadroneggiano e terrorizzano tutti. Ecco, io se all'epoca del grande cinema italiano fosse successa una cosa del genere allora, Ugo Pirro, proprio la grande sinistra, Petri, Lizzani, Nanni Loi, tutti i grandi registi di allora avrebbero occupato una piazza per difendere una cosa del genere, che è la libertà di espressione assoluta. Siccome la commedia italiana è uno dei modi migliori di espressione che ci abbiamo avuto da dopo guerra oggi, perché abbiamo raccontato attraverso la commedia meglio di tutti, meglio della letteratura, meglio del teatro, d'Italia, difendere il diritto di poter in commedia raccontare un dramma mi sembrava una cosa importante. L'hanno fatto con 5 minuti di ritardo, però per fortuna poi alla fine l'hanno fatto. Sì, aggiungo che ho trovato ipocrita quell'atteggiamento di queste persone che poi non mettono mai la loro faccia, il loro nome e il cognome, spesso e volentieri, nello sputare sentenze o vomitare veleno su artisti, scrittori, cantanti, giornalisti, politici, quello che pare a voi. Intanto è ipocrita perché non è che nel momento in cui abbiamo avuto il lockdown la scorsa primavera la gente non abbia continuato a vivere. C'era il dramma, c'era la tragedia, c'era le catombe, ma c'era la gente che cantava dai balconi. Sì, per solito si mandavano messaggi, c'era un continuo. C'erano le chat. Mi sembra talmente evidente che la parte bechina del paese ha preso una cantonata in questo caso, ma gravissima. Sì, l'accusa era anche di mercantilismo, farei soldi su una tragedia. Però quando Federer, il tennista, è stato portato da una nota azienda di pasta a girare uno spot sui balconi dove le due ragazze, forse le ricorderete, in pieno lockdown giocavano a tennis da una terrazza all'altra. La casa di produzione dello spaghetto ha portato Federer a girare uno spot, ma più mercantile di quello. Però su quello nessuno ha detto niente. Cioè nessuno ha detto Federer. Oltretutto, il film che ho fatto, poi parliamo d'altro perché mi sembra troppo autoreferenziale tutto questo, è stato un film fatto a un quinto del compenso di tutti. Noi abbiamo fatto questo film, è uno dei film che è costato in meno in Italia quest'anno. Nessuno ci guadagna e nessuno ci guadagnerà. È stato fatto proprio perché ci sembrava giusto che la commedia italiana parlasse di questo argomento e fosse la prima a tornare nelle sale quando avrebbero riaperto le sale. Difatti così è andata, poi l'hanno richiusa dopo una settimana che siamo usciti. Questo è peggio per noi, ma è stata un'operazione fatta proprio in totale sincerità da tutti quelli che hanno partecipato. Parliamo d'altro. Poi è divertente che lei dica, ma è autoreferenziale. Beh, in un faccia a faccia c'è un giornalista e c'è un ospite che parla delle cose sue e poi può dare delle valutazioni anche sul resto del mondo. Parliamo della sua fede calcistica. La Roma e Totti sono una malattia o una fede, un morbo da cui non si può correre. Intanto mi fa piacere che lei abbia rivendicato di essere molto legato a Milano, perché in testa alla classifica di Serie A ci sono due squadre milanesi e la Roma purtroppo è reduce domenica da una sconfitta proprio con il Milan. Ma mi dica per lei la Roma e Francesco Totti cosa sono? Scusami Enrico. Guarda, la Roma è esattamente come nella canzone di Rita Pavone che conobbi proprio a Milano quando era piccolissima lei e piccolissimo io. La domenica mi lasci sempre sola. Io ho lasciato sola tutte le persone che ho amato quando ero più giovane. Mia moglie sa perfettamente che può combattere con tutte le altre, ma certamente non con la Roma. È stato un grande amore. È un grande amore. Adesso vedo il calcio in maniera completamente diversa, sono molto più, come dicono i francesi, des abusés. Lo vedo con un certo scetticismo, per tante ragioni che sono banali. Ho fatto delle cose per la Roma che non ho fatto per nessuno nella mia vita. Francesco è arrivato. Francesco però è… io amo la Roma e nella Roma c'era Francesco Totti. Non è che sono innamorato di Francesco Totti, siamo anche amici. Francesco è l'espressione opposta alla mia, nel senso io come tifoso mi sento un piccolo Totti e lui invece era il protagonista di questo film e lo ha fatto quando l'ha fatto in maniera esemplare, anche lì senza dire banalità per 3 mila ragioni. Ma la Roma è stata una malattia scelta da me. È una scelta totale, è come una scelta di campo, ma di campo ideale, come… è un valore per me. Per cui io sono fierissimo di essere romanista e ammiro tutte le volte che incontro dei tifosi di altre squadre che la pensano e la vivono la loro fede come me. Perché il calcio è questo. Il calcio è soprattutto abbandonarsi a un'idea che ti rimane vicina per tutta la vita. Anche in qualche forma irrazionale. Io sono stato anche arrestato perché ho combinato dei guai tremendi. A Milano proprio un Inter Roma fu arrestato perché ci furono dei tumulti allo stadio, insomma ci arrestarono e la polizia a un certo punto mi riconobbe e io ho appena fatto eccezionale veramente e alla fine finì a tra luce e vino salutemi a Deco Badantuono, salutemi a… non c'erano i selfie, sennò finiva con i selfie. Ho fatto delle cose pazzesche con… io dico sempre che ero una specie di bipolare come tifoso. Una volta andai a vedere proprio un Milan Roma col treno con i tifosi della Roma e siccome già però facevo, mi piaceva scrivere, mi nascondevo in bagno a leggere Hemingway perché era meglio non farmi vedere che leggere Hemingway. Sì, no, per carità. Nel profilo di Enrico Vanzina, quello che trovate su Wikipedia, io ho cominciato a contare i film in cui ha fatto lo sceneggiatore con il fratello, con altri registi, poi è diventato regista improprio, poi scrive libri, poi fa il giornalista. In un paese normale Enrico Vanzina verrebbe definito intellettuale, perché questo fa, usa l'intelletto per comunicare al mondo. A quale delle sue attività, e siamo in chiusura Enrico, ringraziandoti di essere stato con noi, sei più affezionato? Nel senso che fra la scrittura di un soggetto e sceneggiatura, con tuo fratello o con altri, la scrittura di un libro, la scrittura di un articolo, poi questa cosa della scrittura, a cosa sei più affezionato in assoluto? Sono affezionato all'idea di avere la facilità di passare da un genere all'altro, con una certa disinvoltura. Io credo che il cinema mi ha dato tanto, ma non lo volevo fare. Il giornalismo mi sta dando tanto e mi ha dato tanto, ma non lo volevo fare. Il romanziere mi sta dando tantissimo, ma non lo volevo fare. Io volevo scrivere. Ecco, sono affezionato all'idea che mio padre, portandomi in giro per il mondo, obbligandomi ad andare nei musei, facendomi leggere i libri e facendomi ascoltare la musica, mi ha fatto tirar fuori quello che forse era il mio piccolissimo talento. L'unico che posso avere è quello di sapere scrivere. Un po' come diceva Montale, ci possiamo dire, ciò che non siamo, ciò che non vogliamo. In un flash, non ne ho parlato fino adesso, ma stiamo in chiusura. Anzi, non so se abbiamo la direttora, il direttore in collegamento dallo studio o se c'è un collegamento con lo studio di Milano, perché stiamo triangolando. Certo, io osservo tutto, non è che posso andarmene soprattutto nell'ora tua, anzi nella mezz'ora tua e soprattutto quando c'è un ospite come Enrico Vanzina, che saluto, quindi sono qui. Buongiorno. Enrico, un flash, quanto ti manca Carlo? Poco, perché sta sempre vicino a me. Sembra una frase fatta. Quando se ne andò mio padre lo capì, quando se ne andò mia madre lo capì, adesso che se ne andò Carlo ne sono convinto. Carlo sta sempre continuamente accanto a me. Forse è più forte ancora adesso il rapporto con lui di quando lui stava proprio fisicamente qua. Se non ricordo male, sto andando a memoria, ho letto un'intervista di un vostro grande amico, di un tuo grande amico, Carlo Verdone, che nel ricordare tuo fratello ha detto che Carlo era uno che ti chiamava la domenica mattina e ti chiamava solo per dirti come stai e tu dicevi, vabbè, che mi volevi dire? No, no, ho chiamato solo per dirti come stai, punto. Abbiamo cominciato con l'amicizia, mi sembra la testimonianza di una grande amicizia, no Enrico? Sì, Carlo è una persona, questi due Carlo che vedo in fotografia sono due persone speciali e si capivano bene. Non hanno mai lavorato insieme, ma si capivano perché avevano qualcosa che fa la differenza anche per chi fa la commedia. Avevano una profonda e coriacea e strepitosa sensibilità. Grazie a Enrico Vanzina di questa piacevolissima chiacchierata. Grazie a voi. Ridiamo la linea a Milano al direttore Emanuele Adonghi. Domani l'appuntamento è con un politologo, professore universitario, docente di diritto costituzionale, diritto costituzionale comparato, che ha fama di essere un intellettuale di destra, quindi non viene mai interpellato o quasi mai invitato nei talk show, si chiama Marco Tarchi e faremo invece una chiacchierata sulla odierna situazione politica che mi sembra molto fluida o forse molto statica. Bene, grazie ancora Enrico Vanzina, linea a Milano, Manuele Adonghi, ci rivediamo domani. Ciao. Ciao.